Eccoci sempre con Marco San Micheli, ormai lo conosciamo, rappresentante di Zero, nostro partner in questo grande live 4G. Allora, come ogni giorno noi ti chiediamo l'appuntamento imperdibile di questo Salone del Mobile. Oggi è giovedì, giornata abbastanza elettrica perché sta per iniziare il weekend. Sì, il By Night è sicuramente la parte più calda e più interessante se a un certo punto, dopo tanto design, voglia di divertirti. Sicuramente è lì, tal Franco Parenti è il posto dove passare perché non c'è design che tenga sicuramente il posto dove tutta la comunità del design, dopo che ha visto mostri, ha bevuto un drink, vuole andare a ballare e lì si ritrova. Ma anche i magazzini generali e il Dudo offrono dei DJ molto interessanti come Totter He o Ben Clock. Per quanto riguarda il design, una cosa che consiglio per oggi è l'allestimento di Konstantin Gürcic, che è un designer tedesco molto bravo, che rappresenta tantissimo la nostra generazione di 30-40 anni, per Floss in Corso Monforte. Paolo Antonelli, direttore del design e dell'architettura del MoMA di New York, che invece sarà a Mid Mediaguro a Palazzo Reale. E poi un'altra cosa che riguarda noi di zero è la Grande Milano, una serie di live e di sketchmob che facciamo a Villanecchi per chiedere ad illustratori di illustrare il meglio della nostra città. Perfetto. Invece, adesso sta per partire la tua puntata di Sveglia Maestro, la terza puntata, di che cosa si tratta questa volta? Siamo andati in un luogo magico, Piazza Castello 27, Studio Museo Achille Castiglioni, il grande maestro della luce, del furniture, delle intuizioni geniali e ironiche. È un luogo ancora vivo, che non celebra soltanto la memoria, ma innesta una serie di novità e riedita prodotti che magari sono poco conosciuti. Ci ha aperto le porte Giovanna Castiglioni e insieme a Marco Marzini e a Matteo Mocchi, due giovani designer, abbiamo analizzato e visto quelle che sono le cose ancora vive, ancora interessanti e sono davvero tante, della vita e della produzione di Achille Castiglioni. Benissimo, guardiamo subito. Siamo in Piazza Castello 27, siamo in compagnia di Giovanna Castiglioni che ci introduce in questo luogo mitologico. Dove siamo esattamente? Fondazione Achille Castiglioni, un posto pieno di fascino, a me molto caro, ormai da otto anni mi occupo di questo posto e con molto piacere raccontiamo storie, perché è un posto vivo, pieno di informazioni, pieno di prototipi, disegni, storie, cataloghi, fotografie e tantissimo materiale d'archivio da poter restituire al pubblico. L'archivio testimonia il fatto che per tanti anni in questo luogo sono successe delle cose. Che cose esattamente? Allora, si sono stratificati dal punto di vista geologico 40 anni di storia di progetti, per cui da architettura, allestimenti e oggetti di industrial design. Quindi c'è un racconto che si può fare su tre grandi gruppi di progetti. E sono tantissimi progetti, perché sono 191 progetti di architettura, 484 progetti di allestimenti e circa 293 progetti di industrial design. Numero che può cambiare perché continuiamo a trovare sorprese. Che meraviglia! Oltre un migliaio di progetti che raccontano una storia che in Milano aveva la sua centrale operativa. Sì, ecco, sicuramente questi sono i luoghi della memoria, come altri a Milano, da salvare, proprio perché si respira ancora un modo di fare, un modo di fare progettazione seria, molto precisa, magari senza computer. Ma sicuramente è una progettazione che può raccontare ancora oggi un bel modo, un bel metodo proprio di lavoro. Possiamo dire che Giovanna Castiglioni è una designer della memoria? Assolutamente no! Mi piace di più, sono la voce narrante dello studio, non sono una designer. Ho fatto altro, ma veramente, secondo me, chi fa design oggi deve avere una bella dose di coraggio e tanta curiosità da mettere in tasca e da portarsi in giro. Per cui io sono solo la voce narrante, quindi mi occupo solo di raccontare storie. Di solito le voci narranti cominciano una storia con c'era una volta, noi invece parleremo dell'oggi. Cosa succede alla Fondazione Castiglioni durante la Design Week del 2014? Siamo alle spalle di un allestimento che racconta un progetto totale. Di cosa si tratta Giovanna? Esattamente, un progetto totale che abbraccia un periodo storico molto interessante. Siamo nell'immediato dopoguerra, nel 1952 i Castiglioni vengono chiamati a fare la ricostruzione del palazzo di Camera di Commercio e non solo si occuperanno della parte di architettura, ma anche degli interni fino ad arrivare alle lampade, agli arredi e quindi le poltrone. Oggi siamo fortunati, alcuni di questi oggetti sono ancora in produzione, altri li abbiamo rieditati e quindi è molto interessante poter vedere come questo archivio che parla del passato possa restituire invece al pubblico di oggi, anche in modo un po' ironico, giocoso, alla Castiglioni, un patrimonio di archivio abbastanza, diciamo, pesante. Pesante ma perché è una storia di Milano che deve essere mantenuta nel tempo e raccontata ancora oggi. Chi è l'autore di questo allestimento? Marco Marzini si occupa degli allestimenti da un po' di anni con noi, ha respirato questo studio, l'atmosfera e secondo me riesce oggi a portare in chiave didattica e anche in chiave, diciamo, di interazione col pubblico, tutta una parte museale che noi comunque teniamo qui insieme all'archivio. Quindi per me è un ottimo lavoro di squadra che facciamo con lui, che ha un occhio proprio portato a giocare con il materiale di archivio. Quindi non si fa spaventare dalla pesantezza dell'archivio e lo restituisce tutte le volte con allestimenti diversi, restituisce al pubblico anche materiale in modo scherzoso. Siamo con Marco Marzini, autore di questo allestimento. Raccontaci l'idea alla base dell'intuizione che vediamo che ci ruota intorno. L'idea intanto è perché il design è una grande giostra e questa è una grande giostra. Questi simboleggiano degli ingranaggi perché Camera di Commercio è un ingranaggio e motore dell'economia di Milano dopo la guerra ed è l'unico modo qui in fondazione, visto gli spazi che abbiamo, di raccontare nel modo migliore, nel modo più completo, la quantità, la mole di disegni che venivano realizzati per progettare appunto sia l'architettura che il disegno industriale. Non è la prima volta che sei autore di un allestimento in questo spazio così carico di memoria e di storia. Come ci si relaziona da giovane progettista di fronte alla monumentalità della storia? Beh, con tantissima responsabilità sulle spalle, con l'idea comunque di magari non continuare a progettare ma progettare per raccontare quello che ci hanno lasciato. Sveglia Maestro racconta un luogo, racconta un evento e incrocia il luogo e l'evento con la contemporaneità. Siamo con Matteo Mocchi, giovane designer, al quale chiedo di raccontare al nostro pubblico che cosa fa nella sua vita. Matteo Mocchi, giovane designer, insieme a due soci nel 2010 abbiamo fondato BBMDS, che è il nostro studio di design, decidendo di avventurarci in quella di cui ci eravamo innamorati, che è la storia dell'ex bit design. Per cui speriamo di essere i prosecutori di una tradizione molto italiana che ci ha sempre piaciuto, di cercare di esserlo a modo nostro e magari non guardando con nostalgia al passato, ma cercando di fare un passo più in avanti che indietro. Quante volte il vostro lavoro ha incontrato l'ispirazione e il segno dei fratelli Castiglioni? Tanto e per motivi anche molto legati alla nostra formazione, nel senso che noi veniamo dalla scuola di Achille Castiglioni. Dopodiché ci è sempre piaciuto quello che abbiamo imparato, abbiamo studiato, e abbiamo letto, che era l'atteggiamento di Achille Castiglioni, dei fratelli Castiglioni, legato alla memoria, e che poi paradossalmente abbiamo ritrovato pochi giorni fa in una citazione di John Meda. Secondo noi molto bello come attitudine è quello oggi, da giovani designer, di guardare al passato non con nostalgia e non con celebrazione per quello che è stato, ma di utilizzare il passato un po' come dei DJ, cercando di remixare le culture quotidiane e le culture di oggi. Per cui guardando al passato, prendendolo come riferimento e cercare di attualizzarlo in modo innovativo. Ogni volta che si entra in questo luogo, per me ma come per te non è la prima volta, si è sovrastati da un'onda emotiva ma anche dalla voracità intellettuale e progettuale di Achille Castiglioni. Poco prima, quando incontravamo Giovanna, ci diceva che nonostante il vastissimo numero di progetti, e ancora oggi qualche volta dall'archivio esce fuori un disegno, uno schizzo che può essere ripensato per un'edizione o un progetto del futuro. A che cosa state lavorando in questo momento? Attualmente siamo su un progetto in una cordata e anche qua mi piace molto ricordare quello che era l'atteggiamento dei fratelli Castiglioni e basato sul lavoro di team. Quindi in un team più ampio e più complesso stiamo lavorando su quello che è il padiglione della biodiversità, che sarà un'area di 8000 m2 durante Expo 2015. Stiamo lavorando su quello che è la nostra passione, Exibit Design, in vista del prossimo salone, quindi lavorando su un'installazione in uno showroom e uno stand per un'azienda. E poi ci stiamo avventurando in un mondo sconosciuto, molto difficile, tanto quanto affascinante che è quello del prodotto, e durante il salone lanceremo la nostra prima collezione di rubinetti. Bene, buona fortuna. Ne abbiamo bisogno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.